Che cosa sta succedendo in provincia di Ravenna? Sta succedendo che ci sono dei comuni tipo Bagnacavallo, tipo Lugo di Romagna, dove ci sono delle amministrazioni scellerate che in maniera assolutamente illegale, a quello che ci risulta, concedono degli spazi pubblici senza far pagare da quello che, ripeto, sono le prime risultanze delle verifiche che abbiamo fatto, a alcuna occupazione di suolo pubblico, a delle fantomatiche associazioni culturali islamiche per svolgere il Ramadan. Ora, non è in discussione la libertà di culto, ma è in discussione il rispetto delle regole, perché se qualsiasi associazione fa una richiesta per fare un qualsiasi tipo di manifestazione, giustamente gli vengono richieste delle prescrizioni che vanno dalla questione di sicurezza che devono in qualche modo valutare i vigili del fuoco, rispetto delle normative sanitarie se vengono consumati dei pasti, piuttosto che lo smaltimento dei rifiuti, piuttosto che se ci sono delle strutture, questioni antisismiche. Su tutte queste cose qui sappiamo che i competenti uffici di questi comuni hanno dato parere contrario e quindi evidentemente ci sono dei rischi, ma nonostante ciò i sindaci dei comuni hanno firmato concedendo questo tipo di autorizzazione, verosimilmente in maniera, ripeto, assolutamente illegale, quindi sia a livello di questi comuni, sia a livello regionale, sia a livello nazionale andremo ad interpellare e a chiedere in maniera urgente cosa ne pensino i rispettivi organi di controllo e poi valuteremo se ci sono anche dei profili di natura penale e questo però valuteremo, li andremo ad evidenziare e poi li valuterà chiaramente la magistratura ravennata.